Per firmare un file in formato P7M con l'app Rubafirma, apri il menu qui in alto a sinistra. Tocca la voce Impostazioni. Seleziona l'account di firma remota già configurato. Sia per i file in formato PDF che per quelli XML, abilita la spunta su CADES P7M e poi salva la configurazione. Adesso puoi procedere con la firma del documento. Dal menu in alto a sinistra, torna in Documenti. Tocca il pulsante più e poi seleziona Carica file. Seleziona il file che desideri firmare per aprirlo. Tocca l'icona dei tre puntini in corrispondenza del documento. Qui in basso, seleziona Firma. Inserisci il nome utente e la password della firma remota. Guarda, se hai già configurato la tua firma remota, ti basta digitare solo la password. Ok, firma. Qui ti chiede il codice generato con l'app Aruba OTP o con il dispositivo OTP, in base al generatore di OTP associato alla tua firma. Se vuoi controllare il codice, tocca l'icona dell'occhio, poi conferma. Perfetto! Questa schermata ti conferma la corretta firma del file.